...sotto la doccia, perciò la squadra di Brando rimane in 10, ma 6 minuti dopo al 17esimo ci pensa Beretta con un aerogola a chiudere la partita, recupera palla su un difensore, poi mette il destro giro sul palo lontano dove Steni non può arrivare e la Virtus va sul 2 a 0. Ci prova Castellazzi ma il suo tiro viene bloccato.